Questo è un classico caso di bene comune che viene perso, allora bisogna ricordarlo, anche perché questa decisione crea un disagio agli abitanti del quartiere e soprattutto peggiora la loro qualità di vita. È preoccupata la signora Nunzia per il trasferimento dei medici di famiglia dal poderino di Fano, come lei e tanti altri pazienti, in particolare disabili e anziani a cui abbiamo dato voce nei giorni scorsi e che chiedono che un poliambulatorio possa rimanere nel quartiere. Quando ha saputo del trasferimento? L'ho saputo circa 8-10 giorni fa da una vicina di casa, paziente di un medico che aveva lo studio in via Umbria, poi qualche giorno dopo ho telefonato alla segretaria, la quale mi ha detto, la fermo subito signora perché il suo medico non sta più qui, ma si è trasferito nello studio dietro la farmacia Vannucci. Dopo aver ricevuto la notizia, ha proseguito, ho subito pensato che in via Umbria, essendoci diversi medici di base e vari specialisti, sarebbe stato sguarnito il centro medico più importante della zona e che quindi il trasferimento dei dottori avrebbe portato disagio alle persone sole che dovranno necessariamente farsi aiutare da parenti o da una badante se ne hanno le possibilità. Per questo motivo Nunzia, insegnante fanese in pensione, ha deciso di lanciare un appello. Innanzitutto alla sanità, poi agli enti, alle istituzioni, ai privati che fanno del bene in sordina senza pubblicizzare la cosa, allo stesso vescovo Trasarti dotato di grande pragmatismo perché qualcuno di loro possa offrire dei locali affinché si riapra questo centro medico che è fondamentale per la vita dei residenti del quartiere.